A tre anni dall'ultimo appuntamento internazionale con la Vela, il campionato mondiale Ork International 2013 sarà Ancona a dare ospitalità dal 6 fino al 9 luglio ad un evento sportivo che rientra tra le competizioni più prestigiose di Vela Agonistica, l'unica tappa italiana del circuito internazionale di regate FAR 40, valevole anche per il campionato europeo FAR 40. Parteciperanno soltanto barche ed equipaggi dalle altissime prestazioni, le migliori al mondo. Ovvia la soddisfazione del presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli. Ascoltiamolo. È un evento che si inserisce molto bene in una serie di programmi che portiamo avanti e quando si fanno cose coordinate sono molto efficaci. Porta ovviamente un grande riflettore sulla realtà marchigiana, quindi la possibilità di essere scoperta, conosciuta, apprezzata da tutto quello che noi ben conosciamo. Parla del mare, che è l'elemento su quale si costruisce la nostra macro regione adriatica, sia in termini di economia blu sia come elemento di congiunzione fra le diverse regioni. Lo fa con la vela, che viene spinta dal vento, quindi parla di un uso corretto di energia, di energia pulita e rinnovabili. Quindi mette insieme tante cose che raccontano queste regioni. Un ultimo ovviamente è lo sport, su quale puntiamo tanto e per quanto riguarda la città d'Ancona un'occasione nuova per poter vivere il porto in una parte della città. E coniugare questi elementi che sono un po' la strategia della città d'Ancona. Tutte queste cose assieme in una regata di grande forza, di immagine e di grande prestigio. E per noi, quindi un grazie, ma l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno permesso di portare avanti, di avere questo evento, di poterlo riavere e speriamo che proprio nel senso della continuità che dicevo prima, di avere questo e altri grandi eventi che raccontino le marche per quello che noi tutti i giorni apprezziamo e che vorremmo fossero in tanti da apprezzare. Ed ora il parere sull'evento di un mostro sacro della vela e pluricampione del mondo, il dorico Alberto Rossi. Sì, ad Ancona la Ferrari del mare è una classe, Far 40 è una delle classi più prestigiose al mondo. Hanno scelto Ancona come location per l'evento in Europa più importante dell'anno. Una grande soddisfazione, avendo ovviamente contribuito ad attrarre la classe qui ad Ancona. Sono contentissimo nell'aver ascoltato le parole dei rappresentanti istituzionali, in particolare ovviamente Presidente della Regione, Sindaco e Autorità Portuale, perché posso confermare che questa comunità di intenti e questa attività coordinata e decisa sia stata determinante per attrarre la classe qui ad Ancona e sono sicuro per fare un bel evento.